In quest'estate 2020 che sarà ricordata come il post lockdown, come il divieto di assembramenti, la paura di stare insieme, qual è l'afflusso in agriturismo? Come ve la state cavando in queste settimane? Fortunatamente, buongiorno a tutti innanzitutto, fortunatamente adesso è ricominciato un po' l'afflusso di gente. Normalmente, secondo me siamo in ritardo di un paio di mesi, iniziamo a lavorare come stiamo lavorando adesso, intorno a metà maggio. Ora come ora abbiamo avuto un afflusso soprattutto di gente italiana che scappava dalle città post lockdown nel mese di giugno, che veniva qua per rilassarsi un po', adesso stiamo ricominciando ad avere un afflusso anche abbastanza di gente, di stranieri, che di solito comunque occupano l'80-90% della nostra clientela. Provenienti da dove? Principalmente in Nord Europa, quindi Olanda, Germania, Belgio, Norvegia, Svezia e più qualcuno magari dalla Francia, dagli Stati Uniti, dall'Asia. La Canonica di Corte Arancio è nota anche per i suoi vini dell'azienda Isabella, quali produzioni? Allora, noi produciamo principalmente litini autoctoni qua del territorio, quindi Barbera, Grignolino, Fresa, Albaros, mentre come Bianchi, Baratouchat e Chardonnay. Una cantina con le botti di una volta? Sì, esatto, la nostra cantina è giunta oramai alla quinta generazione, ma ciò che ci contraddistingue il fatto di continuare ad avere, innanzitutto a utilizzare sia in vigna che in cantina, metodi che si utilizzavano una volta nel totale rispetto appunto della tradizione e poi soprattutto non ci dimentichiamo del nostro passato, quindi continuiamo ad avere in cantina delle botti, ovviamente facendo ristrutturare botti che aveva già costruito mio bisnonno con i legni qua, di queste colline. Daci allora qualche previsione sulla campagna del 2020, che sarà? La campagna del 2020 è stata molto intensa dal punto di vista delle ore di lavoro, perché è stata un'annata in cui non c'è stato troppo l'inverno, quindi è partita abbastanza velocemente, dopodiché ha piovuto molto a giugno, quindi condizioni anche abbastanza anomali rispetto agli ultimi anni e non avendo mai fatto eccessivamente caldo la pianta ha continuato a vegetare e ovviamente quando vegeta ci sono poi dei problemi anche, quando vegeta tanto ci sono dei problemi eventuali di malattie. Quindi parecchie ore di lavoro, però siamo contenti sia per la quantità sia per la qualità delle uve che speriamo riusciremo a raccogliere nel giro di un paio di mesi.